Nel caso in cui vogliamo creare la nostra applicazione con il pattern front controller, ovvero applicazione con un singolo punto di accesso, un singolo file che smista tutte le richieste in ingresso, dobbiamo fare in modo che tutte le richieste ricevute vengano dirottate su quell'unico file, che rappresenta appunto l'entry point dell'applicazione. Il nostro punto di accesso vogliamo sia il file index.php, che contiene una semplice echo, ciao da app 1. Quindi anche se l'utente fa richiesta di una pagina contatti.php o gallery.php o offerte slash natale slash 2021, venga in ogni caso riportato alla pagina index.php. Con le direttive reveret.cond e reveret.rule è molto semplice. Iniziamo a giocare con reveret.rule. Ora senza fare condizioni, quindi senza direttive reveret.cond a precedere una reveret.rule, vogliamo che se viene fatta una richiesta alla pagina non esistente a.php, l'utente venga reindirizzato alla pagina index.php. È davvero semplice. Scriviamo come prima direttiva reveret.engine.on e poi utilizziamo una reveret.rule. Vogliamo che tutte le richieste che arrivano allo script a.php, che racchiudiamo tra i delimitatori accento circonflesso e dollaro, vengano reindirizzati a index.php e aggiungiamo il flag r con status code 301 oppure possiamo anche scrivere permanent. Il fatto che noi aggiungiamo il flag r provoca un reindirizzamento esterno, ovvero andiamo nel browser. Facciamo la richiesta local.app1.a.php. Come client abbiamo fatto la richiesta allo script a.php e veniamo reindirizzati alla pagina index.php. Infatti abbiamo la stringa ciao da app1 e ci accorgiamo come client che siamo stati reindirizzati alla pagina index.php perché lo vediamo all'interno della barra degli indirizzi. Ora rifacciamo la richiesta a.php e vediamo negli strumenti per sviluppatori che abbiamo due richieste. La prima richiesta allo script a.php. Il server ci risponde con status code 301 e poi forza il browser ad effettuare una nuova richiesta. La richiesta al file index.php e il server risponde con status code 200. Se invece noi vogliamo che il client non si accorga che lo stiamo reindirizzando dalla pagina a.php alla pagina index.php, dobbiamo effettuare un reindirizzamento interno, ovvero andiamo in Atom, togliamo semplicemente il flag R. Torniamo nel browser. Ora per fare in modo che il browser si accorga delle modifiche cancelliamo la cache. Su Firefox e Chrome facciamo ctrl più shift più cance. Ora se rifacciamo la richiesta local.app1 slash a.php vediamo che abbiamo sempre la risposta dal file index.php ma all'interno della barra degli indirizzi abbiamo sempre a.php e se anche vediamo negli strumenti per sviluppatori. Vediamo che risulta una singola richiesta allo script a.php e il server risponde con status code 200. Quindi è avvenuto un reindirizzamento interno dalla richiesta a.php allo script index.php. Il client non si è accorto di niente. Detto questo dovrebbe essere semplice reindirizzare qualsiasi richiesta all'entry point index.php. Andiamo in Atom e proviamo. Vediamo che cosa succede. Basta semplicemente modificare questa espressione regolare. Invece di reindirizzare le richieste ad a.php allo script index.php reindirizziamo tutte le richieste quindi facciamo punto asterisco. Non inserisco punto asterisco all'interno delle parentesi tonte perché all'interno della stringa di sostituzione non effettuiamo back reference. Quindi qualsiasi sia la richiesta del client facciamo in modo che venga reindirizzato a index.php. Ma se andiamo all'interno del browser cancelliamo sempre la cache con ctrl più shift più cance e facciamo la richiesta ad esempio al file file non esistente punto php. In realtà vediamo che abbiamo un errore interno del server. Ora quale errore abbiamo? Se andiamo in Atom abbiamo il file error.log. Tramite virtualhost abbiamo fatto in modo che quando abbiamo un errore dell'applicazione Apache scriva all'interno di questo file error.log l'errore. Apriamo il file error.log e vediamo qual è il problema e leggiamo che la richiesta ha superato il limite di 10 reindirizzamenti interni a causa di un probabile errore di configurazione e ci suggerisce anche di utilizzare la direttiva limit internal recursion per aumentare questo limite se necessario. Ma perché abbiamo questo errore? Torniamo in htaccess. Abbiamo detto che vogliamo che tutte le richieste vengano reindirizzate a index.php. Quindi con questa revelet rule facciamo in modo che tutte le richieste vengano reindirizzate a index.php. Questo vuol dire che anche se viene effettuata una richiesta a index.php viene reindirizzata a index.php. In questo modo si crea un ciclo potenzialmente infinito di reindirizzamenti interni a index.php e da qui abbiamo l'errore segnalato dal server. Ora soltanto come curiosità torniamo in errore.log e prendiamo questa direttiva limit internal recursion. Leggiamo che il limite interno di rendirizzamenti attualmente è 10 e ci suggerisce di utilizzare questa direttiva limit internal recursion per incrementare questo limite se necessario. Ma se andiamo in htaccess e inseriamo la direttiva limit internal recursion e lo impostiamo a 20. Torniamo all'interno del browser. Cancelliamo la cache. Facciamo una nuova richiesta. Torniamo in atom. Apriamo nuovamente il file error.log e vediamo che abbiamo un altro tipo di errore. Abbiamo che la direttiva limit internal recursion non è consentita all'interno dei file htaccess. Quindi come dicevo anche se all'interno della configurazione principale di apaci abbiamo indicato come a low override all questo non vuol dire che all'interno dei file htaccess possiamo modificare qualsiasi direttiva di apaci. Possiamo modificare tutte le direttive di apaci che sono consentite all'interno dei file htaccess.